Gentili telespettatori, buona giornata. L'Istat certifica che il reddito di cittadinanza ha evitato povertà a un milione di italiani. Poi c'è Giuseppe Conte che ultimamente in queste ultime ore sta raccontando che il reddito di cittadinanza ha sconfitto la povertà. Ma sono due cose diverse. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza perché c'è un'altra notizia che dice così. Nello stesso rapporto Istat i poveri sono triplicati dal 2005. Le famiglie indigenti sono raddoppiate. Il numero delle persone in povertà assoluta è quasi triplicato dal 2005 al 2021, passando a 5,6 milioni, il 9,4% del totale. Mentre le famiglie indigenti sono raddoppiate. Secondo il rapporto annuale dell'Istat, che sottolinea come circa 4 milioni di dipendenti del settore privato percepiscono una retribuzione teorica lorda annua inferiore a 12.000 euro, mentre per circa 1,3 milioni di dipendenti, il 9,4% del totale, la retribuzione oraria è inferiore a 8,41 euro lordi all'ora. Tra questi quasi un milione percepiscono meno di 12.000 euro l'anno e meno di 8,41 euro l'ora. Il quadro dell'Istat è assolutamente drammatico. In Italia ci sono 4 milioni di persone che lavorano e prendono meno di 1.000 euro lordi al mese. Altro che poche persone, il dato, tutto sto polverone non serve, come dicevano i capi del centrodestra, Salvini, Meloni e Berlusconi, che salario minimo, ma stiamo parlando di poche persone che guadagnano meno di 9 euro lordi, ci sono già i contratti nazionali. E invece sono tattiche elettorali per continuare a farsi votare dagli imprenditori, hanno raccontato questa storia di Babbo Natale, che erano poche le persone, stiamo parlando di quasi nessuno. Il 20% dei lavoratori italiani prende meno di 9 euro lordi l'ora, che 9 euro lordi l'ora già sono inadeguati. Il salario minimo è presente in 21 paesi su 27, per esempio in Germania è a 12 euro lordi. E così i poveri sono triplicati dal 2005 al 2021, sono triplicati. Però poi sempre l'Istat dice che il reddito di cittadinanza ha evitato povertà a un milione di italiani. Vuol dire che ci sarebbero stati un milione di poveri in più, ma non che ha sconfitto la povertà come dice Conte. I sussidi hanno abbassato anche di 10 punti percentuali l'intensità della povertà. Il reddito di cittadinanza dice l'Istat ha evitato a un milione di individui, circa 500.000 famiglie, di trovarsi in condizione di povertà assoluta. Le misure di sostegno hanno avuto effetto anche sull'intensità della povertà, che senza sussidi nel 2020 sarebbe stata ben 10 punti percentuali più elevata, raggiungendo il 28,8% a fronte del 18,7% osservato. Se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza avremmo avuto un milione di poveri in più in Italia, è quanto evidenziato Linda Laura Sabbadini, coordinatrice del reparto annuale dell'Istat, durante il briefing con la stampa in occasione della pubblicazione del rapporto annuale dell'Istituto. Il rapporto emerge anche che dal 2005, come dicevo prima, la povertà assoluta è più che raddoppiata. Le famiglie coinvolte sono passate da poco di più di 800.000 a 1.960.000 nel 2021. Quindi le famiglie in povertà assoluta erano 800.000 nel 2005. Oggi sono 1.960.000 le famiglie. Il 7,5% del totale. Per effetto della diffusione più marcata del fenomeno tra le famiglie di ampie dimensioni, il numero di individui in povertà assoluta è quasi triplicato, passando da 1,9 a 5,6 milioni. Praticamente il 9,4% della popolazione italiana è povera. Ma attenzione, povera in povertà assoluta, non in povertà relativa, perché c'è la povertà relativa che è quando uno ha difficoltà a pagare almeno una bolletta al mese, dice questo mese non riesco a pagare la luce, la pago in ritardo. Quella è la povertà relativa, che di solito nessuno vuole essere additato come povero. Ma non è vero, io ho la macchina, ho la casa di proprietà. Ho avuto un attimo di difficoltà a pagare la bolletta del gas, della luce, ma niente di che. Però quel niente di che significa povertà relativa, anche se nessuno si ritiene povero, nessuno. La povertà assoluta è quando non riesci a pagare nessuna bolletta. Povertà assoluta vuol dire che una persona su dieci in Italia è in povertà assoluta. E questi numeri non sono quasi più da Europa, sono da altri continenti, sono da quei paesi in via di sviluppo, non un paese che si vanta di essere e di appartenere al primo mondo. Allora, il reddito di cittadinanza ha sconfitto la povertà, non è vero, ha ridotto la povertà, è vero. Una misura che però andrebbe rifatta cercando di evitare e limitare il più possibile le truffe ai danni dello Stato, di finti poveri, di criminali, truffatori, che quelli ce l'hanno tutti il reddito, tutti, in quanto furbi, diciamo così. Pertanto il reddito di cittadinanza, secondo me, va bene, ma deve essere ritarato e dato solo a chi è realmente in necessità. Difficilissimo da capire chi sì e chi no, perché come fai a distinguere tra due persone? Tu secondo me non c'hai voglia di lavorare, tu secondo me sì, tu forse, ecco, la discrezionalità su milioni di persone non so realmente come possa avvenire. Questo poi sarà un altro problema. Allora, diciamo che il reddito di cittadinanza va riformato e non cancellato, ma riformato come? È una bella domanda. Come fai a capire a chi darlo e a chi no? Devi mettere dei paletti fissi, non puoi dire tu c'hai la faccia di uno che non vuole lavorare, tu invece c'hai la faccia di un furbino, tu c'hai la faccia invece di un truffatore, c'hai le caratteristiche. Non puoi fare una roba del genere. Quindi è difficile anche che una legge possa capire a chi spetta e a chi no in base a dei dati comuni. Difficilissimo. Arrivederci a tutti e grazie.